Tutta la nostra società è fatta per dare spago alla violenza e allora la violenza produce violenza, non c'è niente da fare. Per questo anche il mio essere vegetariano è una scelta morale. Ma come si può allevare la vita per uccidere e mangiarsela? Come si può ottenere in delle spaventose gabbie migliaia e migliaia di polli a cui si deve tagliare il becco perché non becchino impazzite come sono e poi le galline che ti stanno avanti? Come si può allevare un vitello, che è bello, un piccolo vitello, chiuderlo in una scatola di ferro, in una gabbia di ferro perché cresca anche l'osato dentro e la sua carne rimanga bianca? Tutto per ingrassare, tutto perché possiamo avere anche noi parte di questa realtà, ce la possiamo mangiare. Hai mai sentito gli urli di un macello di maiali? E come puoi mangiare il maiale? Impossibile.